Hanno sfondato la vetrata d'ingresso, sono entrati, hanno svuotato la cassa ed infine si sono dati alla fuga con un bottino da qualche migliaio di euro. Un assalto alle prime luci dell'alba ad una tabaccheria di Corso Italia a Castiglion Fiorentino. I banditi, forse tre, attorno alle 5.20, sono arrivati nel centro storico del borgo della Val di Chiana, a bordo di una Jeep Suzuki rubata questa notte in Umbria. Due di loro, con un bastone, hanno mandato in frantumi la vetrata della porta d'ingresso per crearsi un varco ed entrare nel locale. Un altro, invece, sarebbe rimasto a bordo dell'auto, forse pronto per la fuga in caso di arrivo delle forze dell'ordine. Una volta dentro, i malviventi hanno portato via dalla cassa circa 4.000 euro, poi si sono dileguati. Allo scattare dell'allarme, il proprietario ha chiamato i carabinieri della stazione castiglionese. Al vaglio dei militari, adesso, sia le immagini delle numerose telecamere presenti in zona che quelle dell'esercizio commerciale. I banditi, infatti, avrebbero agito senza coprirsi il volto. Sia l'auto che alcune manovre strane sarebbero state notate da alcuni residenti. Qualcuno avrebbe anche parlato di un accento dell'est, testimonianze che adesso potrebbero aiutare gli investigatori a risalire all'identità dei malviventi.